Quali sono le tendenze sartoriali per il prossimo anno? Sicuramente uno stile retro, vintage, sempre con qualche cosa di moderno, un pochino più personale. Quali sono i punti forza del suo atelier? La creatività è il fatto a mano, ma veramente fatto a mano, nel senso che è tutto disegnato, tagliato e cucito con le mie mani. Emozionati con Emozionando.